Ciao un attimo a queste gentili signore che vengono dalla città di Nergoglia e si presentano con il nome italiano di quartetto Buoni Amici che è la produzione del loro amici giapponese e quando stavano arrivando su Tuna di Oro, che lo lei quando siamo stati suonati in Giappone dallo scorso non si è raccandolente visitando il museo di strumenti musicali di Panamazi e allora abbiamo parlato un po' di sede e io li ho invitati all'inizio a luglio e allora mi hanno preso la parola e sono effettivamente venuti a così un anno dopo sono come tutte le cose che si dicono in storia perché non succede invece con i giapponesi succede, però sono precisi e il palo che suoneranno adesso è una specie di indone nazionale giapponese si chiama Fusato, il mio paese è nativo si chiama Fusato, il mio paese è nativo se chiama Fusato, il mio paese è nativo Grazie a tutti. Grazie a tutti.